Siamo con Vittucci, una partita davvero ben giocata da parte della vostra squadra, un torneo che comunque vi sta vedendo protagonisti, insomma tante belle notizie per voi. Sì, siamo soddisfatti, siamo soddisfatti dell'andamento del torneo, siamo soddisfatti dell'andamento della partita, come hanno giocato i ragazzi, come si sono comportati in campo, soprattutto visto che stanno recependo quelli che sono i dettami dell'allenamento, gli schemi, anche se a questa età parlare di schemi è una parola grossa, però già il passaggio del pallone, il portiere che rinvia passando al difensore, il difensore che collabora con l'attaccante di fascia, rientra al centro del pallone. I ragazzi stanno divertendo in un torneo che comunque è già da due mesi che è iniziato e sta sicuramente decollando. Sì, ma questo è un torneo che comunque decolla tutti gli anni, io sono un esperto, diciamo, sono anni che vengo qui a fare questi tornei con varie categorie, è un torneo che è una garanzia, decolla tutti gli anni, c'è una grossa partecipazione, un grosso entusiasmo del pubblico, dei ragazzi che si divertono e soprattutto è bello vedere giocare questi bambini che giocano per divertirsi, giocano per giocare a pallone con l'entusiasmo, fa piacere vedere il loro entusiasmo dopo il gol, anche purtroppo la loro delusione quando subiscono un gol e c'è una cosa a loro sfavore, però questo fa parte della grinta, della partecipazione che mettono i bambini, questo è senz'altro positivo.